ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video ed eccoci qua con un'altra simpatica puntatella dedicata ai vostri orologi ai vostri video alle vostre collezioni e tutto ciò che concerne il voi essere voi stessi diciamo così cosa scegliete noi ci piace vedere quali sono le scelte che fate quando dico fate proprio pluralis maiestatis perché siete in due siete voi e quell'animaloccio che avete sulla spalletta che vi indica cosa vuole acquistare e voi pensate di scegliere invece no è qualcun altro che sceglie per voi ma noi lo sappiamo schiudiamo un occhio anche due e poi andiamo avanti vi guardiamo decidiamo quali sono quelli che potrebbero poi entrare anche nella nostra collezione detto questo a breve ragazzi ma datemi pure le video cartoline dalle vacanze quando ci avete l'albero di natale o il presepio mi fate le video cartoline dalla vacanza con i regali sotto all'albero con l'albero con la stella fida stella cometa stella filante eccetera 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 sulla neve no queste cose qua così brevi corti pupun pipin papà e noi le pubblichiamo a dicembre però non adesso non esagerate detto questo vi mostro l'orologio del giorno che oggi è questo simpaticissimo e k watch orologio con 40 mm di diametro cassa calibro della serie miota 9000 realizzato da due simpaticissimi orologiai di modica in sicilia è un micro brand e k watch ha fatto la recensione di più di un orologio mi sa di tre orologi di loro fatto li ho presi in simpatia li ho presi talmente simpatia che mi hanno regalato l'orologio quando sono andato al uo al voi watches of italy a novi ligure due mesi fa un mese fa non mi ricordo quando settembre era settembre ottobre ottobre mi hanno preso il banchetto mi hanno regalato l'orologio che avevo recensito perché gliel'avevo rimandato e loro me l'hanno regalato l'ho scelto blu e in questo caso lo sto montando con il cinturino in gomma che è veramente comodo c'è anche bracciale però ho messo in gomma perché è veramente morbido infatti sono rimasto sorpreso da quanto buono sia questo cinturino qua c'è anche un aneddoto no che quando eravamo lì poi mi hanno passato il nonno il nonno siculo da proprio al cento per cento che mi ha mi hanno passato il telefono mi ha fatto i complimenti per la reclame ha detto lui no poi con quella 100 siciliano bello forte che mi diceva lei è proprio bravo mi diceva io sudavo freddo perché immaginavo se avete detto qualcosa di sbagliato cosa mi avrebbe potuto fare quel nonnetto lì quindi mi avrei passato il telefono ho fatto un paio di inchini e sono scappato via no l'orologio è buono la recensione l'ho fatta prima di conoscere il nonno quindi insomma ci siamo salvati dai bando ai discorsi inutili occhiale rosso fuoco dito infuocato e anche un pochino diciamo inquisitore e poi colpisce la barra e si parte fuoco ciao davide sono andrea ciao andrea ti faccio vedere i miei orologi e in più quelli di mio padre e di mia madre allora vado un po spedito parto subito dai miei baltic aquascape 39 mm ottimo orologio 200 metri di profondità indici un po virati che danno un bellissimo tocco vintage all'orologio non sono virati bracciale chicchi di riso miota 9000 come movimento è questo blu questo quadrante blu che riflette davvero bene la luce ho detto bello io però non l'ho mai avuto per le mani però non ho dubbi che sia un micro brand che lavora bene gli indici virati no sono gli indici pigmentati di quel super luminova old radium che crea l'effetto vintage ma non dire virati è proprio sbagliato il termine comunque ottimo orologio miota serie 9000 come questo che tutti iniziano ad incassare ma anche brand più prestigiosi magari nella versione quella di le joe per re che è realizzato in svizzera no vengono presi i pezzettini del miota 9000 vengono rimontati in svizzera decorati regolati e diventa swiss mate funziona così basta basta che sia fatto secondo i crismi no di come deve essere fatto e siamo a posto sia artificiale che del sole poi il regalo della mia cresima bello emilton cacchinave automatic con cinturino nato questo orologio indistruttibile sta bene al polso la cresima quando l'hai fatta ieri non è troppo grosso fa il suo veramente preciso quanti anni hai 12 emilton ha sempre dei veri orologi sono d'accordo con te rapporto qualità prezzo andiamo avanti con questo duvard ultra thin bella cassa molto sottile questo qua è un 38 mm anni 70 è stato una chiappone che ha fatto mio zio un mercatino poi mi ha regalato 38 mm tanto è automatico e gli ho messo questo cinturino in pelle un coccodrillo direi andando avanti il regalo di mi 18 anni porco giudice omega speed master esalite 145 022 top eh questo qua è un grande orologio io non ho il polso molto grande però mi sta bene devo dire nonostante sia un 42 io orologi più piccoli e è veramente un bel orologio manuale ovviamente per i 18 anni ti ha regalato lo speed master o povero poi andiamo avanti con questo scuole professional sub lo sentite tutti ma scuole ancora nuovo e dove siamo in campagna andiamo a school dillo come ti pare va bene però sarebbe lo dici squale oppure senza la e finale come sarebbe squal se non squale squail ma scuole era proprio va bene dai questo qua è un 42 maglia milano impone c'è imponente un bello orologio 500 metri dovrebbe fare di profondità dovrebbe andare al mare diciamo che è perfetto a fare un po di snorkeling ma certo questo qua il mio primo orologio è uno swatch credo mi abbia regalato mia nonna quando avevo quattro anni e l'ho messo fino ai dieci anni è un bello orologino va bene bello sì lo su accetto pesa niente swatch andiamo avanti con questo ivc gst full titanio ce li hai gli orologi però è un bellissimo orologio leggibilità buona un cronografo leggero e con un diametro ridotto e poi manifattura ivc sappiamo com'è alto livello poi abbiamo questo gmt master 2 prima edizione questo qua secondo me uno degli ultimi gmt belli che ha fatto rolex perché ancora 40 millimetri ed è spettacolare niente da aggiungere per questo pezzo ma te lo fermo bellissimo e niente non lo tiene fermo poi fai fare giri trottola i miei orologi sono finiti quindi passerei a quelli di mia mamma sono finiti ma insomma da abbiamo qua un lady date acciai oro alla mamma 26 mm 26 anni 90 un bell'orologino piccolo però bello simpaticissimo abbiamo un date sempre non fiammelo acciaio questo dovrebbe essere 34 mm di diametro e un bel orologio portabile anche per uno che ha il polso come il mio non non esagerato eh sì siete fortunati tenuto bene potete prendere i 34 mm e indossarli facilmente che costano poco ultimo di mia madre e questo reverso duo face cappiolo ma la seconda faccia la sera con i brillanti ma la brava brava questo qua è veramente un bellissimo rollo giugie le cutre qualità pazzesca gigetto alle cutri passiamo alla collezione di mio padre a una parte ce li avete però tra tutti da questo omega speed master brodaro 42 orologio spettacolare bello sai mi piace tanto però preferisco forse lo preferisco sempre per il discorso della leggibilità delle sfere brodaro che io sono abbastanza oh e vado a finire sempre lì preferirei quello bianco con gli accenti azzurri eh l'avete mai visto quello è bello si legge meglio sicuramente che questo che però nero è il suo fascino dovrebbe sorpassato all'altro non ci riesco perché ogni volta che punto gli occhi su quegli omega con le sfere messe così e poi dopo rimango fregato come l'ultimo first omega in space quello appena uscito bello lo vedi in certi poi appena si inclina un pochino scompaiono le sfere mi viene un coso a me che dico ma ma fate un po meglio no la sfida tra i due la può vincere lui la vince sempre lui dai poi omega vitagino con secondi ore 6 questo qua era di mio nonno cavoli cinturino con ardiglione originale bellissimo orologetto ardiglione è la punta continuerei con questo vintaggino che credo abbia preso mio padre su catawiki navar si chiama anche qua ore 6 abbiamo i secondi ardiglione placato oro orologio tutto placato oro è un giambo un giambo 39 mm 38 mm primi anni 60 60 65 deciditi è poi poi questo rolex submariner e lui date 166 10 la referenza e questo qua è un grande un grande classico preferisco quello nodata però anche questo è veramente spettacolare se simpatico vediamo questo stupendo portoghese questo qua è uno spettacolo soprattutto dal vivo perché ai numeri in oro e lancette anche in oro veramente spettacolare uno dei cronografi più iconici di sempre e poi manifatture usi liberiamo al top ti piace studiare bravo non te ne devi vergognare andando avanti con un altro iv si abbiamo questo qua che è uno splendido acqua timer anche lui full titanio questo qua mese scorso mio padre ha perso questo pulsantino qua e dato che in titanio era introvabile l'abbiamo dovuto mandare in usi abbiamo ha speso 800 euro per cambiare il pulsante più revisione e vabbè un po cari signore usi diciamo un po cari quando si comprano gli orologi costosi più costosi sono e più costa anche il servizio di assistenza è inutile compri una porsche poi dopo vai a fare il tagliando e quanto spendi compri una dacia vai a fare il tagliando spendi di meno è in proporzione non è che ci sono anche dei motivi tecnici particolarmente no il valore del marchio premium premium no cosa vuoi che 800 fai conto che la revisione completa di un cronografo anche omega non è che si è distante da lì anzi forse qualcosa di più cioè il pulsantino è la meno non è che devi dire ma ho speso 800 per cambiare il pulsantino hai speso 800 per fare un servizio di assistenza completo più il pulsantino che probabilmente tra occhi tirato dietro ottiene faccio per dire questo qua sempre movimento età no di manifattura andiamo avanti con questo stupendo cecele cutre master control svegliarino con data è questo qua è un orologio di un eleganza assoluta ardiglione cecele cutre 39 mm ancora non l'avevo visto sul canale e secondo me vale la pena perché è un grandissimo orologio dal vivo a una manifattura spettacolare finiture spettacolare andiamo avanti con certo questo everard extra forte grande ristampato a peccato gold fu il goccato anche ardiglione originale no morellato non è originale scusa morella e bel cronografo volevo solamente puntualizzare il fatto che la fibbia questa è la fibbia no mentre l'ardiglione è il segmento che si va ad infilare nel buco come diceva rocco quindi non dire ardiglione in generale fibbia poi ardiglione lo spunzone gran orologio 30 38 mm poi ti faccio vedere questo spettacolare gmt pepsi vetroplastica la referenza è la 167 50 e questo qua un gran orologio indici bicchierini ultimo vetroplastica poi sono passati allo zaffero bello questo qua è il gemetti questo virale assoluto quelli erano gli indici virati e poi come ultimo di giornata vai facci faccio il voto da questo qua per ultimo il botto il botto questo spettacolare emilton cronograf si diciamo che il cinturino non è in ottime condizioni e di mio nonno e e bianco comunque un bello orologino cronografo non grosso 40 mm lunetta bianca e ganza però carino carino davide ciao 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 amici gli avete gli orologi ora ti hai fatto un mischione tra i tuoi quelli di tua mamma quelli del babbo c'è filano che guida il nonno insomma e per pigliare un voto alto ci hai messo tutto se furbacchione se furbacchione un bel 9 ti do un 9 oggi oggi 8 e mezzo non esageriamo 8 e mezzo 8 e mezzo 8 e mezzo te lo meriti poi anche te che sei giovane hai fatto la cresima ieri perché se la cresima ti hanno regalato un emilton navi scuba che è recente l'hai fatta ieri la cresima sei giovane ai 18 anni gli hanno regalato lo speedmaster poverino poverino ai 18 anni lo speedmaster vabbè dai sorvogliamo su questi regaloni che poi ci sta ognuno fa quello che vuole ma sono belli anche i tuoi orologi cioè per l'amor del cielo giovane come sei c'è dei signori orologi e chiaramente non sei nemmeno andato a sbattere però forse ti manca un po tutta quella parte di percorso poi non mi hai dato saperlo magari l'hai fatta e non ce l'hai mai mostrata quindi non lo sappiamo di percorso nel quale uno si arrampica sugli omaggi le copie poi lo rivende no ma scoperto che la copia non mi piace compro quello economico compro micro brand compro un usato di philip watch no un percorso di salite discese cadute inciampi che se a 18 anni ti regalano subito speedmaster facile però è nel senso è bello anche assaggiare gli altri anche gli altri orologi sono tutti belli gli orologi capito non vorrei che ti perdessi quella parte limpo scrausetta scrausetta la parte che poi quella a volte è quella che dà più soddisfazioni nel senso che ti compri il submariner come è te vorrei sapere quante volte lo hai indossato io vorrei sapere no proprio statisticamente quante volte l'hai indossato quel submariner l'ho messo l'ho messo al battesimo di mio fratello al matrimonio di quell'altro di mio zio basta 4 5 volte poi il resto del tempo lo passi con gli orologi che sono più economici e che magari con i quali magari hai fatto delle esperienze indimenticabili che segnano i punti della vita no lo giochi se uno indossa se io andassi sempre in giro con questo orologio qua e prima o poi mi accade qualcosa che di rimarchevole per il resto della mia vita e lo associerò a questo orologio capito funziona così bene o male poi comunque si è promosso vorrei anche vedere gli orologi c'è c'è gli avete bravi anche la mamma bello in video quasi le signore che possono mettersi legge le culture piccolino con i brillantini di notte si gira i brillantini tanta roba ciao davide ciao a tutti gli amici del canale sono giuseppe dalla sicilia vai giuseppe presento velocemente la mia raccolta di oro e faccela vedere iniziamo con questo seico anni 80 tutto in acciaio bello mi piace è un'eredità quindi lo tengo principalmente per questo motivo simpatico anche un valore storico un bel peso in effetti non è di quelli moderni adesso di di lamierino poi 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 un taggoire sempre anni 80 80 di nuovo 2000 automatico discrete condizioni insomma automatico questo un ricordo va bene comunque diciamo che sia sia il seico di prima digitale no dice lo tengo solo per affetto per ricordo no anche un valore storico c'è a certo punto quegli orologi li rappresentano delle pietre miliari dell'evoluzione dell'orologeria quindi va tenuto allo stesso modo questo mi dice di tu anni 80 io ho detto anni 90 vabbè si cominciavano già a vedere lo stile degli anni 90 anche questo messo lì al suo al suo perché no nel percorso stilistico anche oltre che tecnico vedete i quadrantini piccolini e il gusto era differente un ricordo più che altro questo invece nuovo un prossimo prospects che ho preso qualche anno fa per il mare molto bello molto bello bravo un po pesante però insomma tu facevo piacevole piacevole si piace simpatico o bravo explorer 2 comprato negli anni 90 addirittura sempre stato in mio possesso bravo revisione seguo insomma è fatta la revisione abbastanza vissuto come un po tutti gli orologi che va bene da un service avrebbe fatto ecco un po più grande bravo portugese questo lo indosso con piacere corroramente però insomma mi piace molto molto bello poi questo è un acquisto recente è bellissimo colore di quadrante molto soleil blu così diametro importante però insomma piacevole piacevole affabile gioviale questo è il primo importante che ho comprato sempre nuovo negli anni 90 anche quello che ho usato di più e si vede si vede si vede è abbastanza vissuto però è bello vederli così è però insomma cioè io voglio dire è bello vederli così nel senso che se io dovessi andare a comprarlo non lo comprerei no ho usato no non lo voglio un vintage cerco qualcos'altro di messo meglio ok se invece sono io il possessore perché l'ho comprato anni fa negli anni 90 e in questo momento è così lo terrei proprio così cioè se ne sarei ne sarei fiero ok perché tutto qui tutti questi scratch scratch che vedi gli hai fatti te quindi veramente l'ha utilizzato l'orologio su questo non ti si può dire tanto di cappello ora poi uno dice a certo punto lo voglio fare ripristinare perché con un bel service sto qua torna nuovo ci spendi i soldi super torna nuovo ha senso io a un certo punto mi farei anche questa domanda qua ha senso se li ho fatti io perché se non ripeto se non li avessi fatti io lo voglio nuovo io compro un orologio così non lo guardo nemmeno lo mando fare service lucidare sistemare il riporto di acciaio cambiare la ghiera revisione lo voglio nuovo perché l'ho comprato io se invece l'ho fatti io me li tengo e anche con goduria finché finché non è un problema tecnico che smette di funzionare non lo so ragazzi ditemi anche voi la vostra perché è un'idea che mi è venuta adesso così su due piedi e comprato usato arriva così lo possiamo ottenere così ma sempre più che bene un altro acquistato fine novanta fine anni novanta tutti quei periodo rimuovano a 161 a cui ho messo un cinturino un po più vecchio credo che sia un 11 70 degli anni 80 mi piace di più rispetto al suo bracciale originale puoi fare quello che vuoi è tuo un bianco nella versione più capro 11 più insomma vicino all'originale 11 33 non sbaglio sempre particolare mi piace molto ci piace molto anche a noi poi basta adesso sempre acquistato da nuovo negli anni 90 classico gmt bravo anche questo abbastanza utilizzato anche questo con la ghiera è vissuto l'inserto ghiera ok ho finito è finito ma non saluto ciao 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 davide è preciso non ti sbilanciare non eccesso di entusiasmo serio composto va bene ti do un 9 ti do un 9 perché deve rendere tutti orologi bellissimi anche quest'ultimo qua gmt no con la ghiera pepsi è proprio il classico di quella ghiera lì di quell'inserto ghiera che va a scolorirsi nel tempo no mi viene in mente qua un mio vicino di casa ce l'ha simile uguale e gli era presa l'idea di cambiare l'inserto ghiera a farselo mettere nuovo ex nuovo e meno male che l'orologiaio l'ha sconsigliato perché il suo bello è quello lì cioè a un certo punto specie ripeto e l'hai comprato anche te negli anni 90 ora mi viene in mente una cosa ma nel tutti negli anni 90 le comprate gli orologi ora non ne compri più hai smesso di comprare un orologino e comprati un orologio da 100 da 500 euro così che per divertirti un pochino perché sennò rimane solo con i ricordi e gli hai anche vissuti gli orologi sono tanti sono belli sono di pregio e hai avuto anche il modo di utilizzarli dagli anni 90 adesso quant'è mi sono 30 anni 30 anni delle utilizzate sì prendine qualcuno qualcuno in più no qualcuno da da utilizzare al passo con i tempi no modo potete anche te entrare nelle conversazioni io c'ho il camasu c'ho il citizen pro master col cintrino giallo queste cose qua ti mancano un po non ti mancano c'è gli orologi belli è vero c'è gli orologi belli sarà meglio che sto zitto va prossimo video ciao davide sono simone dalla provincia di roma ti mostro la collezione composta sia da da moderni che da vintage bravo per quanto riguarda i vintage non mi non mi fermerò a dirti i calibri così almeno cerco di stare un po nei tempi previsti dal tuo format cominciamo con con i moderni con quello che ho al polso il mio chiema superman gmt che alterno sempre con con questo insomma tu penso che tutti conosciamo il citizen pro master for lumbo un bello orologio questo veramente un bello orologio visto dillo quello di prima diglielo poi ogni tanto mi metto anche questo bel seico questorebbe sspb 147 molto bello che poco tempo fa venduto e poi mi mancava non lo sono ricomprato adesso non me lo vendo più perché veramente bello questo quadrante caramello comunque un bello roccio sei un luccio di vanno siamo con i vintage io sono amante omega in ordine dal più vecchio al più recente diciamo cominciamo con questo questo un orologio si vede databile metà anni 30 35 al 40 probabilmente l'unico orologio con il quadrante di stampato però un orologio che c'ha quasi cent'anni ci può stare questa la particolarità che si apre al contrario si apre dalla parte della della corona di ricarica poi andiamo avanti ho questo oversize 38 mm anche questo è un bello orologio veramente molto bello la sua porca mi so figura eh sì bello bello molto bello e dire un'altra volta andiamo avanti fine anni 50 58 59 sim master calendar bello con il suo bel pocampo bello ci piace meglio 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 poi che bello collezionare gli omega così è un bel costellation piepanna pipe a questo buon orologio che io tengo molto col suo osservatorio lino d'oro orologio bello molto bello cronomi toro andiamo avanti ecco qui o meglio ancoretta questa le condizioni non sono perfette però è difficile trovare il loro completo di bracciale elasticizzato e col suo vetro originale infatti vedi il vetro è anche un po c'è una piccola tacca però non lo cambio perché appunto è originale difficile ma si ma lascia così ma che ci frega andiamo avanti anni 70 siamo anni 70 fino anni 60 il mio secondo costellation che bello questo veramente molto bello mi piace un orologio di forma questo si è sempre piaciuto anche a me è un po come il mio admiral no perfetto questo è l'ultimo arrivo in collezione ora mi viene voglia di collezionare gli omega vintage ma potete evitare di mandarmi sto video qua tutti in fila così uno dietro l'altro già già c'ho la scimmietta lì con i long jean mo mi ci mancava con questi costi che poi costano forse costano anche un po di più ma sarà meglio che continui con i miei long jean che non devo non bisogna farsi deviare dalla nostra retta via c'avevo la retta via manteniamo la retta via però questo constellation qua col bracciale integrato così mi è sempre piaciuto l'avevo visto anche a parma al mercato in fiera un anno sono andato ce n'era un paio uno di qua uno di là bisogna ci vuole un po di coraggio nell'aprire il portafoglio e tirare fuori tutti quei soldi che chiedono poi vabbè nel tempo li avrò spesi spesi si però quelli per lì sui due piedi per non ci ho fatto anche perché poi ne hai uno è uno mega vintage messo lì quando stai facendo la collezione tutta altra roba ti sembra di aver deviato delle risorse per una cosa che potevi evitare oddio potremmo evitare qualsiasi orologio però li potevo evitarla e invece ripeto molto bello l'avrò detto già cento volte vabbè non lo dico più molto bello tutti belli i orologi tutti belli e per forza se no questo è il mio sim master cosmic questo è un nos l'ho comprato nella gioielleria e l'ho fatto anche revisionare invito anche risparmiarmi di questi soldi perché tanto poi non me lo metto lo tengo giusto lo tengo per così ma ogni tanto me lo guardo però è visto siamo nella stessa barca potevo risparmiare gli soldi perché tanto non lo metto lo tengo così per guardarlo è uguale siamo tutti su quella barchetta lì non è che cioè noi remiamo e la scimmietta col fischietto che dà gli ordini premare premare e noi remiamo noi remiamo però appena ho visto che te l'hai preso dal nostro dalla gioielleria mi sono prefigurato lì la la gioielleria il negozio che sta per chiudere te entri pigli e perché ti capitano a te e non a me queste cose no capito se mi fossi trovato nella tua situazione l'avrei avrei fatto ugualmente avrei fatto la stessa cosa ecco perché non lo puoi lasciare lì no non lo puoi lasciare lì quel cartellino un cosmiche è bello anche questo con il bracciale integrato così bravo mi stai facendo male è sempre pronto all'uso è nos bello perfetto il tempo si è fermato questo è un 38 mm un orologione molto bello molto bello l'hai detto di nuovo l'hai detto un altro bel pezzetto un classico omega sim master 120 pre bond questo è un bello orologio anche questo questo anche questo c'ha il vetro originale cosa molto rara bello 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 37 mm perfetto per il mio polso da donna che ho un polso da 15 centimetri e mezzo mi signorina sei il mio crono stop però è il modello quello grande omega crono stop si master cavolacci 41 mm lo vengo io lo partito sono messo male facciamo partire eccolo e se questo non è un nostro ma chi ma poco ci manca è stato veramente usato molto 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 infatti ancora tutte le sue visellature fatte bene bello roccio sto metto spesso nonostante il mio polso piccolo poi andiamo avanti il mio mega sim master 300 cosiddetto peter black mi piace qui avendo il polso piccolo pudevo prendere la dimensione di 36 mm che mi sta veramente bene questo è un bello roggio è veramente bello 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 soddisfazioni quando bello 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 la soddisfazione poi davanti omega nonostante il mio polso piccolo non potevo esimermi da comprare lo speed master anche il bracciale d'acciaio che ho levato ci ho messo questo questo bracciale in pelle questo la referenza prima del coaxiale roggio che mi emoziona più di tutti quando me lo metto bello 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 bravo io me che sono finiti marico finirano no faccio anche rolex in ora vino per questo è per peta date 34 mm che sul mio polso da 15 e mezzo come dicevo ci sta un amore un amore condizioni perfette con roggio dell 85 bello però dopo tutti questi omega porta assa ecco qua ok e questo è tutto questi sono i miei roggi spero che ti sia piaciuto anche la pubblicherà la pubblicherai continua così i tuoi video ci tengono sempre compagnia vai grazie davide ciao 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 9 ti do 9 ti do 9 a te te lo meriti tutto 9 perché sei partito che non avevo capito non avevo capito che la tua intenzione era tutta una mono monomarca la collezione monomarca non l'avevo capito forse detto vinti non l'hai spiegato vinti e moderni pensavo di vedere un purpurri di orologi di marche invece tutti omega e ti invidio tantissimo cioè mi sta facendo venire veramente voglia no anche quando visto il peter blake lì il si master vecchio il pre bond fai venire voglia di ora poi mi domandavo anche no quando uno non ci sarà più no ci sarà qualcuno in grado di capire tutto questo insieme di orologi che ha un valore che sarebbe da prendere e da consegnare da vendere perché chiaramente bisogna monetizzare non è che siamo da vendere a qualcuno che li sappia apprezzare no e possa continuare anzi a magari anche rimpinguarla come i miei longin no tutti i miei longin che ho messo tanto tempo a farli tutti uno di seguito all'altro i vari calibri sistemarli tutti poi un giorno cosa succede bisognerebbe vendere prima sai che fra un giorno muori li vendi che non ti frega più niente dei soldi a quel punto no però il soldi lascio ai miei parenti li vendo a qualcuno che li sape apprezzare perché altrimenti si rischia di disperdere tutto questo insieme di sono troppo romantico va bene abbozziamo torniamo a te belli 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 come dici te molto bello come dici te da soddisfazione una bella collezione che mi ha che ha lasciato il segno nel 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 mio interno è proprio all'interno mi ha squarciato mi fa pensare complimenti complimenti amico mio continua così ciao davide mi chiamo alessandro vengo dalla provincia di como como cosa c'abbiamo quella lotus ford la lotus power by ford lotus ford siamo anche qua siamo anni 60 la vedo la macchina da formula 1 degli anni 60 perché non c'ha non c'ha l'elettone davanti non c'ha l'ala mobile davanti c'ha la presa sono quelle fatte a sidero bravo ho scoperto il tuo canale credo solamente un paio di mesi fa e da allora anche grazie a te mi è venuta la famosa scimmia ahia nel senso che ho iniziato a fare subito degli acquisti sono entrato dall'entry level ovviamente ma sono già contento di quello che sto iniziando a collezionare faccio vedere per come vedi sono anche appassionato di formula 1 come tema mi piace anche quella vintage non so se anche tu sia appassionato delle vecchie automobili c'è la corsa degli anni 60 comunque ho iniziato la collezione con questo siccome da ragazzino ormai sono vent'anni che non indosso un orologio usavo gli swatch sono ripartito da da quello è fatto bene revival e ho preso questo modello qui mi piace molto perché è semplice è comunque automatico quindi ha un buon movimento e va che bello si vede tutto dentro mi sono subito preso bene con questa nuova cosa di poter vedere i meccanismi all'interno degli orologi non sono un grande esperto ma mi piacciono le cose belle commettiamola così e parlando di cose belle mi sono subito dopo preso un pilotino questo è un laco modello si chiama palermo è un 39 di diametro mi piace perché non ha ghiera e quindi essendo così sottile sui bordi fa un po l'effetto televisore senza cornice molto bello da vedere e anche sul mio polso importante sta bene mi piace anche il fatto che sia completamente piatto sopra fa proprio l'effetto è un fligger va che bello va che bello si dai a parte gli scherzi comunque poi nel frugare nei cassetti ho trovato anche questo che non sono riuscito a capire a chi appartenesse perché mio padre mi ha detto che non è suo potrebbe essere di mio nonno è un braille ok a ricarica mi piace ricarica che ricarica carica manuale aveva un bracciale inguardabile io non sono neanche un grande amante dei braccialati io ho messo questo cinturino di cuoio probabilmente non c'è azzecca niente ma non credo lo indossero mai volevo solo invece bello portarlo in vita in qualche modo secondo me è bello da indossare ho detto vabbè ma mi dovrò pure vestire bene qualche volta in realtà non lo faccio quasi mai ma mi piace l'idea di poter mettere un dress watch anche sotto una felpa e ho preso un bambino e si è proprio l'orient bambino con questo non si sbaglia insomma lo conosciamo tutti credono mi piace perché da 40 questo come dire discreto non è una pacchianata quindi bello orologino anche lui se mi piace un sacco l'odore della pelle del cinturino che ci hanno messo ho detto dress watch dress watch e facciamo una cosa diversa secondo me questo è il dress watch dei politici di certi anni in certi luoghi del mondo questo è uno sturmansky lo ho preso perché mi piaceva un sacco l'idea di combinare questi colori di avere un orologio diciamo dal sapore un po vintage con dei colori magari un po più moderni in realtà poi questo è un heritage hanno preso un come dire lo stile di un vecchio modello che era dedicato al grande iuri primo uomo nello spazio questo è un'edizione limitata bello numero 70 di 999 bello perché a ricarica sempre con questa ricarica no è a carica manuale giusto carica è quello del telefono io giro e lui va e poi ho fatto l'acquisto un po più importante ma più importante nel senso di leggermente più costoso ma neanche troppo perché cercavo un diver che non fosse la solita pacchianata tanto appariscente questo mi piaceva perché ha un sapore sapore non lo so non l'ho assaggiato però ha un vibe un po vintage comunque l'econoitra 1956 cortina dedicato alle olimpiadi di quegli anni mi piace perché è sì un diver ma non è un orologio di quelli che brilloccano tra virgolette molto figo il fatto che abbia la corona a vite e tu sicuramente ne sai più di me con questa corona tranquillamente insomma si resiste un po di più all'acqua mi piace molto devo dire il pezzo più pregiato che al momento ripeto sono sicuramente all'entry level però insomma mi piace l'idea di iniziare a fare una collezione di questi oggetti così belli e affascinanti grazie mille spero che ti piaccia quello che ti ho fatto vedere oggi buona giornata serata o qualunque momento tu veda questo video bravo bravo niente dai solo due mesi solo due mesi che ti sei appassionato diciamo e da quello che vedo io preso degli orologi allo svoce l'hai preso intanto per mettere un una pietra come pietra migliare ho iniziato da qua e questo mi ci vuole per ricordarmi da dove ho iniziato anni fa da bambino no è un richiamo il calibro che c'è dentro non è niente di che non so nemmeno cosa sia adesso se sia il system 51 o qualcos'altro ma solitamente gli automatici che infilano dentro gli svoce sono quasi usegetta non sono neppure smontabili da quello che so io comunque poi l'aco che c'è speso dei soldini non mi hai detto di quale di quale a quale fascia di appartiene se c'è il calibro svizzero se sono quelli con il miota non ho mai detto niente però è pur sempre un gran bello orologio iniziale il braille ok del nono è un orologio da indossare veramente bello mi è piaciuto tantissimo mi avevo comprato anche un braille ok su su ebay con la cassa simile a questa così a cuscino non c'era la zigrinata in questo modo però cavoli quel braille io non indosserei proprio anche quotidianamente poi cos'è preso il bambino che non mi ha detto che diametro è perché lì fa molte differenze ci sono anche dei violente bambino da 42 mm quelli sono veramente da lasciare lasciar perdere troppo grande poi sono quella 36 da 38 che secondo me la misura ideale e poi alla fine lo store maschi dai di un 6 e mezzo te lo meriti e poi l'econoitra un 6 e mezzo te lo meriti anche perché sei andato per spendere soldi sull'econoitra che insomma costa il più costoso è l'econoitra sicuramente quello che ha speso di più hai avuto anche il coraggio di buttarti su un brand emergente piuttosto che su di un brand affermato con quella cifra lì potevi anche buttarti su un secondo polso di un qualsiasi marchio svizzero entry level e deciso invece di ti fa onore vuol dire che hai già una certa capacità di intendere di volere di discernere tra i tuoi gusti quello che è l'orologio che è più adatto a te comunque sei promosso 6 e mezzo di più non posso darti sono due mesi che che sei entrato in questo simpatico hobby e non è che posso darti più di più è proprio il regolamento che c'ho qua ce l'ho qua dietro il regolamento 6 e mezzo due mesi 6 e mezzo va bene boh ragazzi a me mi sembra di aver detto tutto e spero che vi sia piaciuto il video i video gli orologi l'orologio il presentatore e anche il contesto nel quale il presentatore è inserito e vi ricordo solamente gli appuntamenti fisiche come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love musica Grazie a tutti.